Ci siamo? Per Tarregli questa è una vittoria che forse va oltre i vostri meriti, un gran gol però la partita ha fatto il Teramo. Se prendiamo in considerazione il secondo tempo sono d'accordo con lei. Il primo tempo secondo me è stata una partita dove noi abbiamo chiuso bene le loro fonti di gioco e li abbiamo costretti a fidarsi ai lanci lunghi. Potevamo e dovevamo fare di più in fase di possesso. Il secondo tempo sono d'accordo con lei, ha iniziato meglio il Teramo, avrebbe probabilmente meritato di andare in vantaggio. Dopo il nostro gol però ho contato penso due o tre palle gol clamorose e sbagliate da Perna che ha fatto il gol più difficile e poi ha sbagliato quelli più semplici. Quel gol si prova in allenamento? Gli schemi su angolo credo che siano le uniche cose che si provano. Raramente ci vengono, stavolta siamo stati bravi e fortunati anche sicuramente. Pensavamo che la Gianna venisse qui a chiudersi invece così non è stato perché avete cominciato meglio come ha detto lei. Come mai Rocco in panchina? Ma Rocco in panchina e potrei rispondere con la domanda che mi hanno fatto le ultime due partite perché Chiarello è in panchina, nel senso sono tutti giocatori validi e per questa partita ho preferito Chiarello che ha fatto secondo me bene. Questi sono tre punti che valgono sei? Sono tre punti pesanti ma io ho sentito la conferenza stampa di Maurizio di ieri e giustamente ha detto una cosa sacrosanta che è quella che in questo campionato tra arrivare nei primi tre posti e retrocedere c'è una differenza sottilissima. Quindi tre punti di oggi pesano ma tutte le partite si possono fare tre punti o perderli. Grazie.